What a feeling, un fantastico viaggio nelle colonne sonore e nei film degli anni 80. L'idea di realizzare Top Gun venne da un articolo dal titolo Top Guns. Ragazzi perduti vinse il Saturn Award come miglior film horror. Il film di cui vi parlo adesso è talmente raro che non è nemmeno mai uscito in Italia. Un registrata a Londra con un coro della King's House School. E infine troviamo un giovanissimo Joaquin Phoenix. L'ispirazione per il testo, quel film Il Mago Udini. Il film è talmente ricco di gag che addirittura in alcune scene ce ne sono contemporaneamente sia in primo piano che sullo sfondo della scena. Il film che fu una coproduzione costò 25 milioni di dollari di cui 12 andarono a stallone. Io